Maxi sequestro di droga trovata all'interno di un'abitazione di Fiugi da parte della Guardia di Finanza, ben 188 chili di marijuana per un valore di circa 850 mila euro. L'operazione è nata dal monitoraggio di una ditta individuale dedita alla coltivazione e produzione di cana passativa, cosiddetta cannabis light, utilizzabile come fibra per la bioedilizia o per cosmetici ed alimenti. Gli accertamenti operati dalle fiamme gialle invece hanno delineato tutt'altro scenario. La marijuana, frutto del raccolto infatti, non era stata mai destinata agli impieghi a cui era deputata, né tantomeno il titolare della ditta aveva rispettato le specifiche norme introdotte dalla legge 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, circa la tracciabilità e la corretta identificazione della stessa. L'intervento tempestivo dei militari della Guardia di Finanza ha permesso di sottoporre a sequestro in un appartamento di Fiugi nella disponibilità del titolare della ditta, oggetto di controllo, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, composto da circa 163 chili di marijuana e 25 chili di semi. Il titolare, un 35enne residente a Roma, è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Frosinone per il reato di produzione, detenzione e commercio illegale di sostanze stupefacenti ed è stato inoltre sanzionato.